Il Submariner No Date di Rolex, icona di eleganza e potenza. In questo approfondimento, ci immergeremo nei dettagli e nelle caratteristiche distintive del Submariner No Date, un orologio che ha lasciato un'impronta indelebile nell'orologeria di lusso. Scopriremo i motivi per cui questo orologio è universalmente apprezzato per il suo design raffinato e le sue capacità subacque straordinarie. Il Submariner No Date è rinomato per il suo design elegante e allo stesso tempo altamente funzionale. La caratteristica distintiva di questa versione del Submariner è l'assenza del datario sul quadrante. Questa scelta di design conferisce un aspetto pulito e bilanciato al quadrante, eliminando qualsiasi dettaglio superfluo. La semplicità di questo design è ciò che attira molte persone, che apprezzano l'estetica minimalista. La lunetta girevole unidirezionale è un elemento fondamentale dell'orologio Submariner. Questa ghiera graduata è progettata per misurare il tempo trascorso in immersioni subacquee. La sua unidirezionalità impedisce che venga accidentalmente spostata verso il lato sbagliato, garantendo la sicurezza dei subacquei durante le immersioni. Questo è un esempio di come Rolex abbia creato un orologio che non è solo bello ma anche altamente funzionale. Il Submariner No Date fece la sua comparsa per la prima volta nel 1953 e rappresentò una svolta epocale nell'orologeria. Fu il primo modello della collezione Submariner e uno dei primi orologi da immersione commercializzati. Questo orologio divenne rapidamente uno strumento essenziale per gli appassionati di immersioni e ha contribuito a rivoluzionare il mondo delle attività subacquee. Nel corso degli anni, il Submariner No Date ha subito diverse evoluzioni e miglioramenti, ma ha sempre mantenuto intatta la sua autenticità e il suo spirito originale. Il Submariner No Date è molto più di un semplice orologio da polso, è un simbolo di prestigio, innovazione e durata. La sua capacità di resistere alle condizioni più estreme, sia in immersioni profonde che nella vita di tutti i giorni, è una testimonianza della qualità e dell'attenzione ai dettagli che sono intrinseche al marchio Rolex. La sua estetica senza tempo, la precisione del movimento e la sua resistenza agli elementi lo hanno reso un oggetto di culto tra gli appassionati di orologi. La continua rilevanza e il costante apprezzamento di questo modello nell'industria orologera testimoniano l'impegno in corso di Rolex per l'eccellenza e l'innovazione. Indossare il Submariner No Date significa portare con sé un simbolo di eleganza, precisione e resistenza, rappresentando l'impegno costante di Rolex per l'eccellenza nell'orologeria di alta gamma. Questo orologio è più di un semplice accessorio, è un compagno di vita e avventure, pronto a resistere alle sfide più impegnative.